dipingevo la mano e le faccia di Blue vedi come c'è suoi luce dopo guardi lì prima che ci dà più troppo però strana cazzo, una 42 ore per tirarlo fuori con piacere buona? finito tutto? bravo record record ma sta registrando o no? si sto aspettando un tempo tu sbora stacca la batteria no ma lì è registrato si si c'è la batteria sta registrando si fin quando c'è la batteria si e va bene questa stava ci vediamo la mia è arrivata lì è stata per le sfuri a tendere a? qui anche la mia è un po' di sentarsi guarda è una rotta devo farmi o hanno le radio accese qui la dall'altra parte Alef i walkie talkie le cose e ci sono le interferenze anche l'anno scorso mi ricordo che avevamo avuto problemi quindi? vai di la scusa o salti in mezzo al lago con canotto vai di la non la vedi più eh se non la vedi mica c'è così da qua la vedi? si ho capito la non prende e allora non era colpa della ricevente c'è qualcosa nell'aria e che cazzo c'entra? e che cazzo c'entra? dammi una mano ma se mi arriva che cazzo c'entra a 2 e 4? finiti di lastio ciao 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 io adesso provo solo un buon uomo quindi capito? adesso perchè non puoi usare? ero sincero del girarpa oggi non è che ne vuoi tu segui qua anche tu io avendo i 40 MHz sono soggetto se c'è una portante un po' più forte la sento se c'è una portante un po' più forte la sento però se la sento anche la 2 e 4 con lui a dire che è veramente forte praticamente hanno acceso apposta le cose per non farci andare con le barche qui ti pensai che hanno acceso? delle portanti non è abbastato no secondo me oggi se inizi la gara può essere che ci sia il lettere un po' imbarazzato morto? non va? ma dove ha finita la barca? cosa? dire che è un luogo il là due 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.